What can she do here? Well, just watch this first tumble. It's going to be something pretty special. Double back, two twists. Non mi aspettavo un risultato del genere nel settore femminile perché ho sempre avuto la sensazione che ci fosse nell'ambiente troppo paternalismo. E quindi col paternalismo non si fa lo sport e non si fa lo sport difficile come la ginnastica. E devo dire che questo risultato in America si chiama casella perché ha imposto un sistema molto est-europeo mitigato, moderato intelligentemente come sa mitigare intelligentemente certe cose casella. Ed è stato un fatto clamoroso per me. Quando vidi i campionati del mondo nella Danimarca, la ginnasta va a essere una sorpresa straordinaria. Me ne avevamo già parlato molto bene, ma seguivo ormai molto più la federazione internazionale che la federazione ginnastica d'Italia, alla quale non dovevo guardare se con un occhio di affetto, di amore, ma nient'altro.